La casella Postmaster ha il formato postmaster-nome-dominio.estensione e viene abilitata contestualmente all'attivazione del tuo dominio, che include il servizio di posta. La casella Postmaster ha il formato postmaster-nome-dominio.estensione e viene abilitata contestualmente all'attivazione del tuo dominio, che include il servizio di posta. Tale casella ti consente di gestire la creazione e la modifica delle caselle di tutto il dominio. La password assegnata di default dal sistema a tale casella è la medesima dell'account Aruba e puoi modificarla in qualunque momento dal pannello WebMail. In questo video ti mostrerò come procedere. Per iniziare, accedi all'indirizzo webmail.aruba.it. Seleziona la scheda Gestisci caselle dominio. Nei rispettivi campi inserisci la casella Postmaster, chiocciola nome-dominio, punto-estensione e la relativa password. Seleziona la versione Smart e accedi. Dal menu in alto clicca Impostazioni. Dal menu di sinistra clicca Gestisci password. Dal forma che si apre inserisci la vecchia password, poi la nuova password rispettando i criteri di seguito descritti e confirmala nel campo successivo. Assicurati di usare una password sicura. Clicca Salva per completare la modifica. Nel caso in cui riscontrassi problemi durante la procedura, ti consiglio di inviare una richiesta di assistenza dal portale assistenzaclienti.aruba.it. La richiesta deve essere aperta con il tuo username chiocciolaruba.it e la relativa password associate al dominio di riferimento.